Pier Carmelo Russo ha la colpa di avere paralizzato e azzerato quel grumo di interessi affaristico, politico, mafiosi che stavano attorno ai termovalorizzatori. Pier Carmelo Russo ha paralizzato il sistema dell'eolico per il quale oggi c'è stato un sequestro da un miliardo di Euro e quindi ha paralizzato il maraffare infiltrato di criminalità organizzata e di Cosa Nostra. Se questo è un demerito o un merito lo lasciamo giudicare ai cittadini, tenendo presente che peraltro Pier Carmelo Russo, il paralizzatore, per merito di queste scelte ad esempio vive sotto scorta, è l'autore della legge, l'autore dell'assemblea, ma colui il quale l'ha costruita della difesa sul nuovo sistema dei rifiuti, diverso da quel sistema che costerà alla Regione e ai siciliani circa un miliardo di Euro, che ci lascia le strade piene di rifiuti e che invece dovrà aprirci a differenziata, impiantistica adeguata e se serve anche termovalorizzazione nei termini e nei limiti in cui serve. Amici che a proposito di paralizzatori o meno, temo che stia parlando lo stesso linguaggio di quelle parti politiche, l'Udc, il Pdl, che hanno detto sui termovalorizzatori e sulla sanità le stesse cose che sono state dette contro di noi.